Ciao a tutti, sono Nese e oggi sono qui per un nuovo video e oggi sarà un video molto speciale perché vi faccio vedere la mia prima cover in silicone e vi metterò alla fine del video tutte le foto che ho scattato durante il processo mentre la facevo. Non sono riuscita a girare il video perché, insomma, non è proprio un tutorial, è solo vi faccio vedere come l'ho fatta perché avevo le mani completamente impiastricciate di silicone e ho usato appunto i guanti e tutto quanto però mi sono comunque sporcata totalmente le mani, infatti anche fare le foto non è stato facile. In ogni caso vi faccio vedere come è uscita e alla fine del video vi metto tutte le foto del processo e le foto della cover finita. Devo dire che mi sono divertita molto, è stato molto, diciamo, è stato un macello, diciamo, tutto il processo perché appunto ci si sporca senza mezzi termini. E faccio una premessa, cioè che non amo moltissimo le cover in silicone perché pesa non sono ingombranti e soprattutto non mi piacciono quelle in cui vengono attaccate, buttate là cose a caso tipo dolci insieme a, non so, figures insieme a cose che non c'entrano niente, ecco l'una con l'altra. Ho visto per esempio una con Kibius e la scritta Barbie. Che cosa c'entra? Niente. Quindi, insomma, le cose troppo messe a caso non mi piacciono, mi sanno abbastanza Pacchiane, devo essere sincera. Quindi ho cercato di fare una cover più, tra virgolette, sobria per quanto possibile queste e meno ingombrante possibile. E fatta a tema, cioè che abbia un tema. Insomma, vi faccio vedere la cover direttamente così lo vedete. E' questa qui, scusate il tempo non è il massimo per farvela vedere, la luce però. Eccola qua, a me piace veramente molto come è riuscita. E' stato complicato e ci vuole un sacco di silicone. Ho usato il silicone trasparente per fare la cornice fuori e il silicone bianco tipo panna per fare quello all'interno. Poi ho usato i glitter per fare una specie di arcobaleno e riprendere i colori degli sticker, quindi viola, arancione, giallo e verde. Ho usato questi sticker di me and me perché erano veramente enormi e non sapevo come usarli in una creazione, però trovo che siano veramente stupendi anche per queste cover. E questi due erano i miei preferiti, questo è il mio unicorno preferito. Diciamo che è a tema me and me, però è a tema fatine e unicorni in generale e arcobaleno, quindi le cose che mi piacciono di più. Ho aggiunto successivamente questa piuma, che è viola azzurra, che riprende sempre questa parte della cover, con una specie di, diciamo, degli sprinkles, sparkles, eccetera, che sembra quasi universo, stile universo. E poi ho aggiunto queste gemme, perché ho detto magari posso aggiungere dei dolci o delle cose, però non c'entrava assolutamente niente. Quindi ho aggiunto queste gemme che invece c'entrano molto, perché come sapete Mia ha nei capelli tutte queste gemme, quindi riprende un po' lo stile sempre di Mia e di Klimt in generale, perché come sapete si basa sullo stile di Klimt e come vedete qui le ali, eccetera, i vestiti sono tutti su quello stile e Klimt era un orafo, quindi le gemme centrano alla perfezione. E le ho messe dello stesso colore, quindi viola sulla parte viola, arancione sulla parte arancione, verde sul verde e blu, semplicemente per riprendere un po' il blu, questo qua dell'unicorno, eccetera. E niente, a me piace veramente tanto, ditemi che cosa ne pensate, è questa cover trasparente, è rigida nella parte interna e morbida nella parte fuori, quindi è perfetta, perché ci vuole una base rigida per fare questo. E finora ha retto bene, quindi insomma non si è staccata o altro. Spero che la vediate bene, so che la luce non è il massimo, però mi piace il fatto che sia trasparente e mi piace insomma l'effetto, come è venuta. Ditemi che cosa ne pensate, se vi piace insomma nei commenti e probabilmente in futuro ne farò altre, intanto per adesso ho fatto questa. E niente, lascio a voi insomma i commenti, vi ringrazio di aver visto il video e vi lascio alle immagini della creazione della cover. Un bacione, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!